buon poveriggio a tutti ben ritrovati live finalmente siamo con uncharted 4 fine di un ladro in italia o in originale a tiz and allora volta aspetta un attimo che quale telecamera secondo me è stata un po toccata ok a posto eccomi allora intanto fatemi vedere se qui mi sentite così poi chiudo l'audio di qua un attimo solo ok a posto possiamo andare allora va beh imposte funzioni di base luminosità vabbè queste cose quasi solito ci siamo si dai ci sono ci sono no aspetta fate una cosa solo no va bene così niente vabbè la lingua la sappiamo quindi inutile che tocchiamo sottotitoli va bene uscita audio va bene va bene ci siamo dai possiamo iniziare solo i comandi come se i comandi direi che c'è poco da vedere accessibilità cos'è mi sono assistito tutta questa roba qua non la vogliamo assolutamente quindi ci mettiamo solo i sottotitoli così voi nel caso non dovesse sentire bene insomma avete potete leggere i sottotitoli continua eccoci qui ho già scaricato la patch del day one sono circa 5 giga in realtà ne sono due incluse in una 5 giga e qualcosa allora nuova partita livello di sfida medio perché non ho ancora giocato per niente il gioco quindi ok ci siamo ragazzi io il gioco lo sto iniziando adesso farò un po come attimo solo fa vedere a ok si adesso mi sa che non mi vedete perché sto eccomi qua eccomi eccomi dicevo io il gioco l'ho iniziato lo sto iniziando adesso non l'ho ancora iniziato farò un po come ho fatto con i road to uncharted quindi farò tutto e dico tutto ciao step farò tutto il gioco in diretta almeno sono intenzionato a giocarlo in tutto quanto in diretta un po come ho fatto appunto con i road to uncharted ovviamente però rispetto ai road to uncharted che facevo puntate settimanale ogni settimana ogni 15 giorni qui condenserò tutto in una settimana ragazzi quindi farò adesso il live stasera ne farò un altro domani altri due o tre live insomma farò tutto condensato in pochi giorni perché ovviamente devo essere quanto più veloce possibile anche perché poi devo fare anche la recensione e tutto il resto però dopo la recensione comunque credo che continuerò a giocare al gioco visto che c'è anche il multiplayer e così via quindi magari qualche altro live poi comunque ci uscirà il primo caricamento mi sembra un po lunghino sono arrivato all'inizio del capitolo 5 e riseguo fin lì ah con piacere grazie step mi fa piacere che tu mi faccia compagnia ecco i caricamenti l'avevo letto su digital foundry ieri aveva pubblicato l'analisi e dicevano appunto che il caricamento dei capitoli è un po lento però dopo il caricamento iniziale il gioco scorre fluido senza altri caricamenti e così via quindi è solamente l'inizio del gioco solamente quando lo avviate che dovete leggere un bel caricamento lungo sono un uomo di ventura devo seguire il mio destino Henry Avery 1694 vabbè su più o meno a larghi tratti la trama di uncharted 4 la sappiamo io ve l'avevo anticipata già nel 2014 quando ci fu la presentazione del gioco al playstation experience quindi diciamo qui sotto questo punto di vista non mi trovo molte sorprese però vediamo dai seguiamoli insieme ci sono le costole si lo so lo so e accelera se faccio andando più veloce che posso e beh che dire ragazzi graficamente dire che è impressionante dire poco porca miseria siamo già in gioco vedete possiamo già guidare la barca che bello ok ripristina visuale tassi abbastanza classici per la guida nel mezzo minchia ragazzi graficamente porca miseria che cos'è bellissimo l'effetto dell'acqua veramente bello mamma mia ecco forse l'effetto dell'acqua più bello finora l'ho avuto assassin's creed 4 black flag e gta 5 direi che uncharted li distrugge tutte e due in un attimo porca miseria ecco ecco io poi lo continuo a dire drake è come il frosinone culone porca miseria siamo già morti siamo già morti grande a parte gli scherzi no con tutto il rispetto per i tifosi del frosinone della squadra del frosinone però io so che ormai era uscita sta cosa nel frosinone culone ecco con Nathan drake siamo su quei livelli voglio dire l'audio è qualcosa di stupefacente si confermi lo sto sentendo tutto con l'audio in cuffia e si tanta roba secondo me questa è praticamente la sequenza iniziale non so se vi ricordate quando il gioco venne annunciato che vedremo quella sequenza in cui drake praticamente usciva dall'acqua no? ecco secondo me è una cosa simile viene presa da lì questa scena ah col triangolo si ricarica abbiamo cambiato leggermente i tasti a quanto pare giustamente se non mi sbaglio con R1 adesso c'è il rampino esci esci a dove sta l'isola non la vedo ah eccola mamma ragazzi che cos'è questa sequenza iniziale porca miseria e mi sa che adesso andiamo di flashback e infatti nathan cosa dobbiamo fare con te ormai ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle e ora dovrai stare qui con me per i fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri non mi importa non mi importa ma per cosa allora niente lo dirò al confessore nonostante nonostante i miei sforzi sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello è un peccato e vabbè cose che capitano cosa diceva steppet sarà un escalation di emozioni vedrai lo scopriremo insieme intanto ci saranno tante tante dirette sul suo gioco se è vero che dura quasi 20 ore e voglia di giocare insomma comunque direi che questa è una sequenza tratta proprio da prima che ovviamente nate incontrasse sally come poi abbiamo visto in un chart train nei flashback di un chart 3 quindi il richiamo dell'avventura praticamente qui scopriamo la prima avventura che il primo tesoro che stavano cercando appunto i fratelli drake ecco quindi andiamo aderli qua che è appunto la ricerca del tesoro del pirata Henry Avery o almeno quello dovrebbe essere secondo stando ai trailer che ho visto nel gioco ai trailer e delle anteprime che ho fatto sopra animazioni ragazzi al top davvero cioè col pad avverto proprio la pesantezza del personaggio ottime sensazioni davvero ok adesso sta sequenza è molto lineare devo dire quindi l'interfaccia mi ricorda un po' dell'assovaso con i pulsanti che escono praticamente sul sui elementi dello schermo anzi dello scenario ma il rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela cosa vuole che faccia sa già come la penso non sono ancora disposto ad arrendermi non puoi mandare il problema senta parlerò con lui domattina stessa d'accordo buonanotte padre no tessere la carta dai sora vai via forza brava è la mia cartella mh 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 orfanotrofio saint francis ho intravisto edros intonato uno dei libri di Nathan per farsi beffere il bambino Nathan l'ha aggredito e l'ha scaraventato a terra sebbene edward sapere il busto di lui mi sono affrettato a dividerli ma non prima che tutti fossero colpiti a vicenda finalmente mi dice a 7 hanno tolto i punti dell'arrampicata gialla che non si potrebbe proprio vedere e poi mi conferma che c'è tanto di delassofas ma diciamo che è anche abbastanza normale voglio dire delassofas è servito molto a Naughty Dog per come esperienza anche se pensiamo a Remastered che praticamente ha aiutato poi Naughty Dog a comprendere meglio ps4 giusto per farvi un esempio che devo fare? devo arrivare a quella finestra io però avevo visto la porta mi sa che si poteva interagire con la porta fatemi vedere no allora ho visto un male io ok niente oh la sora fuma attenzione e gira lì questo poi ci ci introduce anche diciamo in modo molto semplice anche le meccaniche stealth del gioco no? quindi fa anche un po' da tutorial questo questo primo livello ovviamente si comunque è vero si comunque è vero tutti quei punti di arrampicata gialla come erano nei precedenti episodio soprattutto nel 3 se non mi sbaglio li hanno tolti adesso sono più integrati nello scenario si in effetti sia in Uncharted 3 ma mi ricordo anche altri giochi tipo Enslaved Odyssey to the West dei Ninja Theory che metteva bene in evidenza gli elementi dello scenario con cui interagire per arrampicarsi per aiutare i giocatori però erano un po' fastidiosi perchè non non si integravano bene e anche un po' la come si dice l'immersione ne perdeva un po' ecco ok questo è Sam ma scherzi di nuovo non è niente e il fatto di non cacciarti nei guai ci spalava merda addosso ma allora? ha detto che papà ci ha scaricati perchè siamo un peso e mamme all'inferno per Nathan dai lo dicono solo perchè sanno di ferirti capito? devi imparare a riderci su tu non ridi fai quel che dico non quel che faccio tieni o prendi freddo forza quindi perchè sei venuto qui così? se le suore ti beccano chiameranno la polizia ho un regalo per te e non può aspettare Natale cosa? è qui fuori e non cacciarsi nei guai? beh questa è un'eccezione ecco ecco io forse ho colto un piccolo easter egg che non tutti forse noteranno non so se vi ricordate quando venne annunciato il primissimo Uncharted su PS3 inizialmente Nathan Drake se non mi sbaglio doveva avere una maglietta bianca con le maniche rosse cosa che in questo caso vedete c'ha Sam addosso sei leggero quindi non so se lo fanno apposta in Holy Dog però se non mi sbaglio anche in Uncharted 3 c'era il giovane Drake che appunto indossava questa maglia bianca con le maniche rosse quindi secondo me è proprio una citazione al primo reveal di Uncharted del primo Uncharted Drake's Deception comunque cosa mi diceva Step? le espressioni sono qualcosa di assurdo mai visto prima si confermo le espressioni facciali è tanta roba ma in Naughty Dog c'è da dire che su in questo punto di vista sono stati sempre dei maestri mi ricordo che prima di Naughty Dog i più bravi erano i Ninja Theory io mi ricordo Slave dall'epoca no Slave scusatemi Heavenly Sword all'epoca fu qualcosa di incredibile che era il 2007 quando è ucciso PS3 o 2006 non mi ricordo adesso comunque insomma fu tanta tanta roba poi hanno cominciato tutti a capire che il motion capture ormai doveva essere alla base per fare un gioco e quindi con le animazioni poi si sono messi un po' tutti a regola e vi faccio un esempio Electronic Arts con FIFA ha fatto quello step evolutivo la serie FIFA proprio da quando Electronic Arts ha cominciato a introdurre il motion capture per tutte le animazioni dei giocatori e da lì poi FIFA fece quel salto qualitativo che PES ha fatto non ne riuscito mai a fare e guarda che ha riuscito a fare solo dopo molti anni quando hanno capito che dovevano lavorare tantissimo sulle animazioni dei giocatori ecco se adesso PES sta in ritardo rispetto a FIFA è proprio perché deve recuperare ancora terreno per tutti gli errori del passato ok ok qua ci introduce anche il rampino ovviamente tieni premuto l1 e poi per arrampicarti ok Sam se ti levi ok ok wow poi guardate la cura nel dettaglio quando Nate stava scivolando sul tetto si vedeva un po' di sporcizia saltare a destra e a sinistra è qualcosa di assurdo la cura che ci hanno messo in un ridoco pure qua vedete se io adesso provo a saltare sul muro vedete Nate con le mani che si appoggia su di esso poi essendo comunque queste animazioni cosa che che utilizzano poco perché appunto si tratta di un flashback che sarà un'oretta di gioco ma neanche pura allora loro potevano anche diciamo lavorarci di meno curarle meno queste animazioni invece no sono incredibili già da qui poi mi immagino quando controlleremo Nathan Drake cosa saranno le animazioni Nathan Drake d'adulto ovviamente vedete che bello il panorama da da dietro io volevo vedere se c'era la possibilità di attivare la modalità foto con L3 più R3 il problema è che se attivo la modalità foto ci sia il mio faccione sempre lì in alto a destra quindi l'interfaccia non la posso nascondere e quindi uscirò sempre io in foto vabbè le foto poi le devo prendere per fatti miei quando 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 rigiocherò il gioco per gli screenshot magari però aspetta volevo solamente controllare una cosa ragazzi scusatemi avevo visto tra gli effetti fatemi vedere se c'è l'effetto self shading una cosa del genere fatemi controllare solo pignetta cornice filtro bianco e nero blu arancione solo gli effetti grafici voglio vedere come sono carini infernale noir questi sono un po' come quelli dell'asso base colorato vintage caldo no allora forse l'avevo visto male io su effetto self shading non lo so va bene scusatemi scusate questa piccola digressione però mi piace molto a me andare a utilizzare le modalità fotografiche per poi scattare il screenshot che condivido su facebook e anche su twitter perchè adesso se non so se ci avete fatto caso su twitter utilizzando l'hashtag uncharted 4 cioè l'emoji di natan drake attivabile anche nei dialoghi la modalità fotografica ottimo ottimo davvero beh ma sei bloccato assore efficiente? no ok ah l'ha sbloccato il self shading ecco no ragazzi non mi dite che non mi dite che questo è un bug vi prego non mi dite che questo è un bug porca miseria ma dai mi sa già sulle palle Sam primo bug lol riparti dal punto di salvataggio vai io sono sempre fortunato devo dire eh no a parte gli scherzi io con i ah però abbiamo ripreso da qua ok subito no a parte gli scherzi io con i bug sono sempre stata abbastanza fortunata ehm ehm insomma lo giocai dopo qualche patch però insomma non mi incappai mai in quei quei bug grafici che si vedevano su internet io sono sempre stato abbastanza fortunato però forse la sfortuna sta per arrivare bah infatti vediamo un po' il panorama com'è porca miseria eh sì il panorama a livello artistico ci siamo direi di sì poi se non mi sbaglio ci sta anche un'ambientazione in Italia non c'è non posso rivederla no l'Italia sta un po' tornando in auge nel mondo dei videogiochi dopo e dai tempi di Assassin's Creed 2 anzi degli Assassin's Creed di Ezio Ritore che non si vedeva un po' d'Italia un po' tra Hitman con l'episodio ambientato a sapienza bellissimo Battlefield 1 anche che ci farà visitare un po' d'Italia insomma forse stiamo tornando un po' in auge come si suol dire no pensavo che sarà bloccato di nuovo chi è che mi rompe le scatole ok ok coraggio puoi farlo dai coraggio oh merda sono preso forza avete visto pure là quando Donnit stava scivolando le foglie quando siamo passati sulle foglie come le abbiamo mosse ce l'ho fatta tanta tanta roba ragazzi una cura per i dettagli incredibile ragazzi mi sentite bene tutto a posto con l'audio? visto che posso avere dei feedback sai cosa? questa volta lo fai tu davvero? sì davvero io ti vengo dietro io ti vengo dietro ma mi ha detto così però eh proviamo? andiamo l'utilizzo delle luci è da maestri si senta benissimo sia tu quel gioco ok grazie step sì vabbè le luci anche quelle poi se non mi sbaglio ho utilizzato tutta una serie lo diceva Digital Foundry che praticamente il motore di Naughty Dog che è proprietario ve lo ricordo se non mi sbaglio si chiama Naughty Dog Engine una cosa del genere N e D Engine insomma insomma ha introdotto tutta una serie di filtri di effetti di rendering per l'illuminazione per la fisica e tutto il resto insomma che rende il lavoro degli sviluppatori molto semplice a quanto pare probabilmente velocizza anche un po' lo sviluppo dato che probabilmente questo motore gestisce autonomamente tutti tutti gli effetti fisici illuminazione e quant'altro insomma ok devi sapere che sono molto cambiato l'ho comprata lavorando sodo dai su monta in sella cosa? quando fai queste sorprese perché cerchi di farti perdonare tu sei fin troppo sveglio lo sai vero? va bene ho trovato lavoro pagano bene molto bene ma starò fuori città per un po' quanto sarebbe un po' circa un anno al massimo ma tornerò prima che tu te ne accorga credimi mi pianti in asso smettila non essere così tragico quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro come puoi farmi questo Sam? ehi lo faccio per il tuo bene quei soldi saranno utili a entrambi e nel giro di un paio d'anni un paio d'anni portami con te no mantengo a stento me stesso contribuirò senti so che l'orfanotrofio ti va ma sai quanto? si ma ora per te è la soluzione migliore capito? davvero fidati di me non è giusto ehi abbiamo mai avuto niente di giusto? ma ce la siamo cavata no? certo beh sai la moto non era l'unica sorpresa e dovrò svelarti la seconda cosa? ho trovato le cose di mamma quelle vendute da papà ho rintracciato l'acquirente ti avverto se lo dici solo per consolarmi no 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 te lo giuro dove? al di là della città che ne dici di andare a prenderle? vuoi dire rubarle? beh non puoi rubare ciò che ti appartiene già non credo che la polizia sia d'accordo allora non facciamoci beccare te la senti? ovvio che si ok si capisce l'emozione solo guardandone in faccia non riesco a smettere di farci caso no non mi dite che questo è di Rasha vi prego mi sa di no sarebbe stato bello vederlo ok adesso mi sa che ci introducono le meccaniche del combattimento speriamo che sia un po' migliorato rispetto ai precedenti episodi secondo me siamo molto lalà eh molto simili al terzo no non non mi non 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 che tal questo luce come un uombre te la sei cercata o drake le pigliava le mazzate comunque questo non è è di raja del primo episodio sarebbe stato bello mettercelo però se questo è un altro flashback credo di sì se vuoi asserrare la bocota gringo lasciami e basta e basta aiuta mettermi non era una risa vero piccoletto la puoi a matare io dico come mierda chiamami ah posso attivare la modalità come mi dice steve posso attivare la modalità foto anche qui ed eliminare la scena solo nate o gustavo ah vedete avevo visto prima una cosa togli personaggi filtro mettiamo filtro normale campo visivo nascondi personaggi ah vedete nascondi nemici nascondici video è carina sta cosa va bene grazie steppe per il suggerimento puoi scattere fuori il culo solitaria caglialo devo stare sperando a chi eh apre andiamo quanto tempo dovrò restare qui dentro eh e dov'è il bagno ce l'hai davanti divertiti sicuro grazie uscite sally voglio vedere sally la sua saggezza mi mancava mi manca la sua saggezza mi manca la sua saggezza capito lo due un luogo infernale magari potrei fare una doccia cagliate buongiorno ragazzi ah è già sera ma non si capisce da qua giù no vedete anche qui sui vestiti di drake la terra la sporcizia anche le ascelle pezzate direi però che anche qui la cura poi vediamo qua effetto l'illuminazione la luce che si rifletteva sul sul pavimento molto bello ehi tanto piacere e qui le pozzangere ragazzi tecnicamente è davvero tanta tanta roba benvenuto a palma ehi cringo vi lo che hiciste a gustavo tengo un cucchio che tiene tu nombre amico te lo mostrerai quando regrese dejannosla a nosotros nos encargamos d'era ad esempio le vedete le vene sui polsi di drake ehi ehi tranquilli sapere visto hai degli ammiratori tanta cura pubblico adorante vai poi comunque si nota una certa cura da parte dei sviluppatori di voler rendere un pochino gli ambienti più vivi mettendoci tanti personaggi su schermo vedete quello che fa palestra fa esercizi di là c'è quello con il bilanciere attento per quello che si riuscidono e fanno un omicidio col peso scusatemi per la pessima battuta aspetta cosa hai detto? lo scoprirai molto presto te l'alberti per me lo scuciaste eh si anche i dialoghi secondari si si la sensazione è proprio quella che che gli sviluppatori abbiano voluto lavorare molto abbiano lavorato molto sul sul rendere gli scenari il mondo del gioco molto più vivo più credibile più popolato e così via vedete pure i topi che passano qua sono comunque per per noi il tutto ancora più credibile più reale perché comunque siamo una prigione panamense a quanto pare quindi ho curiosità a vedere se si muove qua il gancio no ah no si muove si muove il gancio andiamo cominciò vagamente a insospettirmi sai questo non sembra affatto l'ufficio del direttore quanti topi ok hai ricevuto di qua qui dentro se hai visto prison break noterai le somiglianze no guarda prison break ce l'ho tra i preferiti su netflix è una di quelle serie che ho sempre dovuto guardare ma che per un motivo per un altro insomma non ho mai visto e prima o poi lo recupero su netflix insomma no vargas l'accordo era che ci avresti fatto entrare uscire e basta e basta sto rischiando le chiappe per voi gringos si rave ti paga un mucchio di soldi per il disturbo si ma non abbastanza ti han detto di non aprirla e mi hanno anche detto di non accettare mazzette o portare qui gente o anche picchiare i detenuti ma eccoci qui d'accordo ma stai attento a 300 anni la terza stagione è la stessa ambientazione purtroppo non lo so lo recupererò prima o poi c'ho tanta di quella roba su netflix che non so quando recuperarla però ci provo vedi vedi qui si parla di nuovo del tesoro di Henry Avery si si conosco già la storia puoi arrivare al punto sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola ecco spero che un giusto possa riuscire a entrare in questo luogo infernale portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso quindi cosa vuoi le ricchezze del paradiso è una metafora no 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 tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora voglio una fetta ok facciamo così tu mi lasci salire e controllare la cella e se dopo 300 anni è rimasto qualcosa puoi fare un accordo con Rave ora potresti la lettera per favore e come pensi di arrivarci scalando o forse preferisci farlo tu visto che vuoi una fetta cerca di non crepare al massimo ci dovrei una fetta di torta a questo va bene ecco una cosa che ho sempre amato interagire con l'herba in un charter vedete vedete pure il personaggio com'è descansa con le mani il doppiaggio è molto buono la seconda era la faccia in inglese per vedere le differenze mi dice Steppet va bene il doppiaggio italiano di un charter è sempre stato di grande qualità Sony sui doppiatori diciamo ha sempre sui doppiaggi dei suoi giochi ha sempre speso molto insomma ha sempre curato molto la localizzazione dei suoi giochi io il doppiaggio in inglese non mi ricordo se l'ho mai sentito degli altri uncharted forse si però non ci ho mai fatto delle run complete ecco poi si ovviamente come si chiama Troy Baker Nolan North sono bravissimi Troy Baker poi l'abbiamo conosciuto in The Last of Us Metal Gear Sol 5 insomma Troy Baker ha tanta esperienza quindi poco da dire su di lui ecco una passaggiata mi sembra un altro doppiaggio che a me piaceva era quello dei due Infamous con la voce di Junior per Cole quello era anche fatto molto bene ma lo stesso i V-Rain per citarne un altro i giochi di Quantic Dream Sony davvero sul doppiaggio ha sempre lavorato benissimo sulle localizzazioni più in generale ok abbiamo preso il rampino qua che c'è? prendiamo un po' di tesori dai guarda nel pozzo guarda guarda ci sono appena andato un attimo prima che tu me lo ricessi dovrebbe fare il caso mio io poi non sono io non sono sto gran cacciatore di tesori cioè se me li trovo davanti li prendo e va bene se no non è che mi metto troppo a cercarli non mi è mai piaciuto fare il completista in questi giochi l3 ecco la cella ok come arrivo lassù si parte comunque belli i gabbiani lì vedete il vento che muove le foglie qui questa è tutta quella parte che vi dicevo del motore fisico che gestisce il gioco in automatico e dare pure che bello qua il mare ecco ecco la solita ciorta qua mi verrebbe da citare bonolis resti attaccato ci sono un sacco di punti in palio forse posso scivolare giù da lì e agganciarmi al palio vada non cincischi eh ragazzi sei sei il creatore di quei video dark souls x ciao darwin così come sono stati chiamati se ne mettesse a fare uno su uncharted e uscirebbe un capolavoro perchè uncharted ogni tanto sta morendo sta accadendo l'unica cazzata è il rampino che si rivolge da solo si l'effetto non è proprio il massimo a vederlo però alla fine ci sta voglio dire nell'economia di un gioco purtroppo alcune alcuni limiti come dire devi devi raggiungere ecco purtroppo è così cioè se mi toglievi il rampino io poi lì come avanzavo no? purtroppo questi sono i limiti tra virgolette dei videogiochi mmmm non ci possono fare molto gli sviluppatori perchè nella realtà un rampino stava attaccato là ah e beh beh chi lo pigliava più si licenza poetica no da qua mi sa che non si passa dobbiamo fare così ecco la solita ciorta ovviamente questa parte di gioco è molto molto guidata poi sicuramente più avanti troveremo zone molto più aperte come abbiamo visto anche nei vari video di gameplay del gioco ah ma ragazzi tecnicamente però che cos'è è una vera gioia per gli occhi continua a salire tieni prenduto L1 e usa L per tirare alla fine mi ricordo un pochino questa sequenza mi ricorda un po' il primo capitolo non so se ve lo ricordate quando drake deve salire la torre mi ricordo un po' quello non so sto trovando un sacco di piccole citazioni precedenti episodi non so se è fatto apposta o o sono io che esagero in queste cose nel notare queste cose ci siamo infatti step mi dice che questo è come se fosse un grande tutorial sembra più una suite ok qua è chiuso da dove iniziamo ah mi sa che qua dobbiamo premere qualcosa questi graffi e scarabocchi avranno un significato allora e stiamo al primo enigma allora si cosa mi dice è fatto apposta e più avanti te ne rendete conto in maniera plateale va bene prima enigma vediamo un po' come fare ah ok qua ci sta qualcosa la luna simboli alchemici il sole e la luna che è pokemon sole e luna tra l'altro ragazzi il proposito di pokemon sole e luna ci sta sul tribe trovate la notizia il primo trailer del gioco anzi il secondo dovrebbe essere dove in pratica ci viene mostrato lo starter iniziale quindi vedete i primi tre pokemon di sole e luna dove la verità non mi piacciono tantissimo e poi la serie di pokemon sole e luna è strannunciata anche la data di uscita che se non mi sbaglio è 23 novembre una cosa del genere quindi andate a vedere la news sul tribe se siete interessati devo dire che i primi pokemon non tanto mi piacciono ora ci siamo non mi entusiasmono molto poi speriamo di vederne altri più belli allora sole e luna quindi sagittario e scorpione abbiamo detto se la giro non c'è niente e mi sa che dobbiamo premere questi pulsanti qui sagittario è questo e corrisponde alla x quell'altro invece com'era? che è una sorta di m quindi il 2 si direi di si allora proviamo la x qui e 2 in numeri romani però mi sa che dovevo premere prima l'x ho perso qualcosa nella lettera sagittario e 10 in numeri romani che fa il gioco? mi trolla? che diceva la lettera? ah ma forse devo fare la somma quindi 12 quindi 12 la butto lì forse devo fare la somma io pensavo dovessi di dover premere i due pulsanti si allora mi sa che devo fare la somma 12 che avevo visto qua 10 e 2 io pensavo invece di doverli premere eh doverli premere di andarle a toccare separatamente guarda cosa abbiamo qui gira in factis rechivimus drake io in latino ce l'avevo 4 quindi o mi dici tu che significa oh qua c'è anche la freccia disegnata sul muro si mi sa che sono stato un po' coglione però vabbè forza lo scalino ha una trappola ti ho premuto l1 e usò la levetta per calarti va bene e adesso? eh anche qui l'effetto che lui piglia la spinta all'improvviso col rampino un pochino brutta da vedere però come dicevamo prima purtroppo con i videogiochi devi sempre prenderti una licenza poerica come diceva il buon step prima in chat possiamo scendere? si intanto continuano a citare story if che dovrebbe essere uno dei villain del gioco se non mi sbaglio è quello tipo il biondi tipo biondo là come cavolo è lui insomma oh che bello qui lì c'è Vargas beh ci sto questa è la prigione bellissimo come ha citato Vargas no 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 oh ce l'ho fatta anche qua mamma che bello il panorama io se se adesso non fossi live starei a scattare foto in continuazione probabilmente sto gioco mi durerebbe tre ore mettendomi a fare gli screen dobbiamo arrampicarci qua invece qui per curiosità non c'è nulla ok ora si ragiona ora si ragiona che hai trovato che hai trovato affetta ridorta allora questo è stato ripulito se lassù c'era nascosto un indizio io non l'ho trovato per sicuro hai cercato nel punto giusto beh deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera forse c'era un'altra torre che è crollata secoli fa hai una mappa di questo posto c'è una piantina può darsi c'è una pila di vecchi documenti ok bene bene tu dagli un'occhiata vedi che cosa trovi intanto io ne parlo con Sam è l'esperto di Eberi forse può trovare un senso a questa storia ok si guarderò tra le case girati si bene quando gli avrai parlato torna da me d'accordo dai gringo se ti becco ancora a fare appugni vai nella buca una settimana grande prova ad attore Vargas quasi quanto la mia ecco Sam ecco Sam ah 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 lo sento Chico tendo che irmi chiaro ti vas quando sta ganando parati Ehi, ti hanno gonciato per le feste Stai bene, sì? Niente a cui non si è abituato Andiamo Oh, 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 oh Non vorrei tenermi sulle spine, vero? Avevi ragione No, avevamo ragione Non resta che cercare, Raif Non ricominciare, ti prego Andiamo L'hai detto anche tu Noi l'abbiamo fatto Tu e io E adesso il ricone di merda vuole unirsi Da quanto ci provavamo? Eh? Avevamo qualche pista Non è vero, ok? Neanche una Che ti piaccia uno Senza Raif E senza Vargas Non saremo ingiati Riguardo a Vargas C'è un problema Che tipo di problema? Ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto Bene Dopo che ha letto la lettera Oh E cosa ha scoperto? Te ne vuole una fetta? Un merda Raif Se qualcun altro scopre questa storia No, no, si stiamo tutto io Con Vargas Tranquillo Ora ci sono cose Più importanti A cui pensare D'accordo Cerchiamo un posto Un po' più Appartato Sì Cosa diceva Steppo? Ora che Nate mentiva Si vedeva dall'espressione Che lo stava facendo Bene Qui tutto tranquillo Sì, sempre tornando a parlare Le animazioni Ragazzi Il lavoro è incredibile Sulle animazioni facciali Ma abbiamo raggiunto Vette di realismo incredibili Stai attento, ok? Legno con intarsi di oro e argento È ben fatto Dentro il cavo Perché un uomo di Everi Dovrebbe perdere tempo A nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso Tecnicamente un crocifisso Rappresenta Gesù Questo non è Gesù È vero Manca la corona di spine Delegato alla croce Ma se non è Gesù Allora Legge descrizione Digna factis rechipimus Riceviamo 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 il giusto Per le nostre azioni Mi stupisci Orfanotrofio cattolico Ha i suoi vantaggi È santisma Sì Il ladro pentito Ma non vedo annesso Ragazzi Facciamo finta Che io non sia mai stato a catechismo Ok Durante la crocifissione Gesù venne messo Tra i due ladroni Ok Il primo Prese in giro Gesù Il secondo Questo qui Lui si pentì E Accettò il suo castigo Serenamente E Gesù lo condusse In paradiso Il ladro pentito Sì Che c'è? Oh Hai capito? Esiste una cattedrale Di sandisma In Scozia L'ultimo avvistamento Di Evere Fu in Scozia Non può essere Una coincidenza No Sapete Avevo dei dubbi Su voi due Ma Cerchiamo Vargas Dobbiamo andarcene Ancora Fammi indovinare Il tipo con cui Hai fatto a pugni Non sapevo Avesse tanti Amici Le dije Que no hayamos terminado Mira Ya no sganaste Ok Muy tarde para hablar Chi no sales Setti Lo se Tu no te metas Ok Anche qua Le animazioni Sono incredibili Tronti combattimenti Avete visto L'avversario Che si è appoggiato Al suo compagno Per non cadere C'è da dire però Che il combattimento È bello fluido Dinamico però Non è poi Sto grande È un po' come Anciarte il 3 Col quadrato si attacca E col triangolo Si contrattacca Tutto qui Con l'unica differenza Che adesso Te ne devi rendere Il conto tu Quando controattaccare Premi il triangolo Invece prima C'era praticamente Il gioco Che ti diceva Premi triangolo Vado Ah schiva E pugni Con una capriola Comunque Quello c'ha un coltello Mi sa che tra poco Ci prova a stare il culo Col col coltello Bravo Vargas Vargas uno di noi Alguien mas necessita Che le ricordi Las reglas Alignense Che c'è sto Eh Dame Contrabbandi Della merce Vargas Cagliate Chi credi di essere Lievalo su selda E tre Lo sgringo Sì mia oficina Tu Se diceva Se attacchi un nemico Che sta combattendo Con un tuo compagno Fai le mosse In due La combo La fatality in due Ok Vargas Ci ha scoperto Più che Vargas Mi pare Sargente Garcia Questo Però vabbè Ce ne hai messo di tempo Ci stavano facendo secchi Lo faccio io Vargas Andiamo Oh Non ho trovato niente Sarai un'altra torre Beh Ehi Ho un'educazione cattolica Ne ho sempre una Non rito Ehi ehi Senti Non vale nulla Ok Ti sembro un idiota Ok Vuoi rinegoziare Bene Smettila di fare il teppista troglodita Metti via la pistola Grazie Siamo disposti a darti Il 10% Il 50% Il grosso del lavoro è nostro 20% E non lo troverai senza di noi 25% Alla pari 25% Mi sembra equo Me ne farò una ragione Sì Certo 400 milioni si dividono meglio in quattro Allora siamo d'accordo Sì Siamo d'accordo E se dovessimo rincontrarci Ecco Cazzo Risolto Ti ha dato di volta il cervello Puoi forse scoprirlo Che stiamo facendo Ci atteniamo al piano Questo era parte del piano Voi seguitemi Dai Dai Avete visto là Quando Nate Come stava con gli occhi spalancati Quando Quando Raffaei ha ucciso Sergente Garcia Alla La finestra Nathan Aiutami Minchia Una prigione Proprio di massima sicurezza Se le finestre Si aprono così Mamma mia Le guardie Mi pare che ci hanno la mira Degli stormtrooper Che non pigliano nessuno Manco se Manco a pagarlo Ragazzi scusatemi se io parlo poco Però un po' perché Sto cercando anche Di godermi un po' il gioco E un po' perché Voglio farlo godere anche a voi Al meglio possibile Se mi metto a parlare troppo Durante Le sequenze Animate Insomma Ci perdiamo entrambi Mi sa Oh Double chock slam Qua ragazzi Ha fatto la double chock slam In stile Kane Undertaker No 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 Se ne andrà Senza di noi Deo No Se facciamo presto Forza Privato sono ovunque questo posto sembra un labirinto perché vogliono farci uscire perda una guardia è bello vedere vai scendere la scaletta siamo quasi ecco il bar come dice bastava tenersi al piano si aspetta a festeggiare stiamo a guardare da quella parte ignoraci andiamo dai alla parete non fermarti confermo guardia come gli stormtrooper ci sono forza ti prendo io ti tengo andiamo Sam no no resisti resisti Sam dammi l'altra mano forza l'altra mano no dobbiamo muoverci no è ancora lì sotto no è spacciato forza la barca è oltre quel muro no non posso non posso lasciarlo qui niente tuo fratello è morto vieni con me o morirai anche tu ma come ti parla Sam Sam oddio no no merda Sam veniremo qua l'audio come gioca bene con i sentimenti che sta provando Drake in questo momento no se più che vedete sentite una bella sequenza questa d'impatto ok e fu un'ora e qualche minuto di gioco porca miseria che inizio siamo passati dalle esplosioni sulla barca in mare credo che era il Maragascar quello a un paio di flashback uno più tranquillo quando i due erano giovani fino ad arrivare al flashback della morte di Sam qui intanto vedete il gioco gioca anche con i nostri sentimenti mettendoci facendoci vedere le vecchie avventure di Drake Eldorado che bello che bello Eldorado che tra l'altro tratta dal primo Uncharted che è il mio Uncharted preferito questo invece Uncharted 2 intanto Seppet che mi dice la prossima zona è visivamente devastante adesso la scopriamo la scena del treno la famosa scena del treno qua già sta arrevuotato diciamo così permettetemi di usare questo inglesismo Shambhala qua la famosa scena del treno del terzo episodio Ubar l'Atlantide del deserto musiche bellissime davvero belle diretto da Bruce Staley Straley e Neil Druckmann che sono tra l'altro anche i director di The Last of Us c'è stato un bel passaggio di consegne dopo l'addio di Amy Ednik che era la scrittrice dei primi tre Uncharted che lei ha detto c'è ancora molto di mio in Uncharted 4 quelli due Straley Druckmann anzi il duo formato da Straley e Druckmann aveva delle insomma sentimenti contrastranti diciamo così sul lavoro su come procedere con Uncharted 4 poi Enig e Druckmann insomma Enig se ne andò da Naughty Dog si è unita con Visceral Games per lavorare sul nuovo Star Wars e Druckmann e Straley hanno poi preso le redini del progetto al 100% ecco però Enig ha detto c'è ancora molto di mio in Uncharted 4 quindi chissà la sensazione almeno dai trailer ma anche un po' da questo incipit è che il gioco sia un po' più maturo un po' meno come dire giocherellone è sbagliato però insomma ci siamo capiti rispetto ai precedenti episodi ecco bellissima questa sequenza sott'acqua ragazzi mamma che bello qui c'è un tesoro i pesci abbiamo già versi 2 bellissimo Ninnolo a forma di squalo di Ciriqui c'è un dole panaventia a forma di gatto che bellino qui c'è qualche altra cosa siamo alla ricerca di un rulletto per qua vedete la marea com'è la natura vedete che bello ok abbiamo trovato un vagone un vagone merci mi sa che cosa abbiamo bene riesco a vedere il carico la maggior parte delle casse è qui vuoi essere più preciso dovrò prima entrare aspetta ok ecco qui io vorrei dire una piccola cosa qua si dice tanto di playstation 4 neo nuove console e compagnia bella ma vedete cosa si riesce a tirare fuori da queste console quindi dico io perché lamentarsi in continuazione perché andare a cercare se benedetti console nuove cioè ragazzi è incredibile quello che stiamo vedendo con un certo e 4 questo dimostra che se le console vengono a sfruttare bene insomma si può fare tanta tanta roba ancora con queste macchine nonostante la loro arretratezza come tutti lamentano però un certo e 4 da una parte io ci metto anche quantum break che è un bel vedere a quanto pare io non l'ho giocato però insomma ha detto di tutti anche nel nostro spazio che l'ha recensito tecnicamente è un bel gioco insomma sono la prova che si può fare ancora tanto con queste macchine se sfruttate a dovere quindi perché farmi incazzare con queste benedette console nuove qui c'è qualcosa un'altra cassa una cosa che voglio recuperare dal letto del fiume è quel rimorchio Nate concentrati Nate che convini no non ho capito ah devo mettere sul rimorchio mi sa ok non pensavo che la voleva portare sopra dove stava il rimorchio o qua bene una cassa è a posto tempismo perfetto siamo sopra di lei la gru sta scendendo chi è esso jameson perché la voce è nuova quindi non è qualcuno di familiare chissà se rivedremo in questo un certo e quattro clue e quell'altro quello pelato dove adesso mi sfugge il nome dei precedenti episodi aggancia il rimorchio vediamo di sollevarlo un po' ok io ho il capo vado ad avvolgerlo attorno a uno degli assi dovrebbe andare si ah rete questa è come la sequenza che vedevamo nel video di gameplay ambientata a Madagascar che dovevo prendere il gancio e trascinarlo che carina sta cosa qualcuno potrebbe altri sviluppatori probabilmente avrebbero fatto fagli premere triangolo e stanno apposto così che invece non ritogli ho detto no facciamoli girare attorno al palo a posto ecco qua il secondo è andato ok il rimorchio è pronto perfetto allontanati lo solleviamo quando volete e adesso ci siamo ok è sufficiente si a posto fatemelo cadere addosso non posso promettertelo dobbiamo prendere quest'altra cassa qui ok l'altra cassa l'ho fisso insieme alle altre sali 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 ah cut è ripelato grazie a sé pet che me l'avevi suggerito mi piacerebbe molto rivedere quei vecchi personaggi sicuro Elena sali vabbè poi c'è Sam insomma li rivediamo Elena e Sally chissà le serie vecchie conoscenze e con cinque minuti di ossigeno avanzati chiamine ehi che ne dici di restare ancora un po' potresti trovare altri tesori qui può bastare così un passaggio sarebbe gradito andiamo sulla gru sulla gru andiamo sulla gru io qua volendo potevo mettermi ad esplorare un altro poco però andiamo avanti però anche qui si uno si metteva a perdere un po' di tempo a esplorare sott'acqua perché comunque la zona mi sembrava un pochino aperta insomma comunque è bello come ti senti meglio ora che sono uscito da un fiole mazzerà di pesce per una settimana ok stiamo arrivando resisti sono pronto a me ragazzi effettire l'acqua sui vestiti dei personaggi è sempre incredibile uncharted sin dal primo capitolo insomma ne ha fatto un motivo di vanto è sempre stato avanti sotto questo punto di vista e infatti potete confermare potete vedere lo stesso voi adesso con l'acqua le gocce d'acqua che cadono sul volto di Drake lancia l'attrezzatura arriva grazie intanto stai aperto mi dice che al prossimo capitolo ha pianto benissimo ci devo emozionare anch'io quindi chissà qui dove siamo chissà mi sembra non lo so non so credo America boh va bene sempre per il cosa facevamo prima dare credibilità rendere il mondo un pochino più vivo vedete qua potevano benissimo non metterci nulla invece che ci hanno messo una barchetta che arriva questi che si mettono a parlare bello bello dimostra ripeto una certa cura per i dettagli se io sopra avevo visto qualche altra cosa fatemi vedere qui c'era il tesoro no non c'è nient'altro ok con l'operatura al container di qua è stata un'immersione interminabile ma sai ho visto di peggio è un complimento beh sono scioccato no ma sai cos'è scioccato ah questo è un po' come un chart eh no come un chart come come della sto vas lo saprei a me non dispiace mi ricordo la madre questa è cattiva le riferirò anche questo Drake infame bastardo è un po' come della sto vaso quando ottenevate quei dialoghi opzionali che si trovavano nel gioco infatti se non mi sbaglio nella sto vaso c'era proprio il trofeo trova tutti i dialoghi opzionali o una cosa del genere va bene possiamo andare dai qui finiremo dopo il mio eroe andiamo vediamo chi hai preso ehi la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro meriti una pausa no no grazie riferisco stare a mollo qui in ufficio beh ad ogni modo c'è tempo prima della prossima immersione che dici il lavoro di giovedì no andiamo no c'è chi lo fa per meno non ci credo la concorrenza è agguerrita beh questo praticamente è drake che sta svolgendo il suo lavoro perché adesso ve lo ricordiamo Nathan ha abbandonato la vita da criminale insomma la vita del cercatore di tesori dovrebbe essersi sistemato da un lavoro credo abbia anche sposato ele e poi questo generava anche un po' di conflitti con il ritorno del fratello che lo spingerà a tornare nella vita che ha abbandonato non hai idea di quanto valga questa roba il cliente ce lo pagherà a peso d'oro non vuoi fondarlo e farne dei centesimi dai andiamo a festeggiare offro il primo giro venire a bere con voi no 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 non ho più il fisico se non ti spiace sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano un'altra volta ok come vuoi ehi bel lavoro oggi grazie mi sa che tra poco torna il fratello arriviamo a quella sequenza in cui anzi quella sequenza che abbiamo visto alle 3 del 2015 se non mi sbaglio era la playstation experience no forse era la playstation experience del 2015 che cos'è ho avuto una soffiata su quel relitto sommerso in Malesia oh no la nave è intatta si basta solo prendere il carico sei un tipo tenace devo ammettere e ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento è tutto pronto tranne il mio uomo migliore l'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio primo i conigli sono creature adorabili secondo il contatto hai permessi no non hai permessi senti nessuno terrà quei permessi certo che no ma Nate non capisci che gioca a nostro favore niente permessi niente concorrenza la nave è nostra niente permessi niente partenza Nate sarebbero i soldi della pensione abbastanza per il trampi non so come la vedi tu ma non ho intenzione di recuperare rottami fino a 60 anni tu si meglio della galera ora senti io mi tiro indietro e dovresti farlo anche tu ok ma tienili tu fallo per me dai guarda che non cambierò idea ti chiedo di dormirci su va bene saluta Carlo e i ragazzi da parte mia ok senza impegno Nate ma pensaci su vedete qui come si gioca molto sul processo di maturazione fatto da Nathan insomma lui ci tiene a sottolinearlo ragazzi ha abbandonato la vita del cercatore di retori sarebbe la scoperta del secolo figlio di puttana no no non si può tu finirai in mezzo agli altri questo mi sa che è la casa di Drake una vita normale infatti vedete il gioco lo continua a sottolineare mi fa ho scalato il tuo fratellone la statuina di uncharted 2 questa non so se ve lo ricordate quell'enigma dove bisognava rampicarsi sulle mani della statua che bello c'è tanto citazionismo in questo in questo gioco questo era era il primo uncharted se non mi sbaglio si questo mi sa che era il primo uncharted che altro c'è a me una cosa che dispiace un po' è che gli sviluppatori che i naughty dog sembra che abbiano completamente eliminato il capitolo per PS vita qui c'è un trofeo da sbloccare e mi sa che riguarda il prendere tutti questi oggettini qui stavo dicendo insomma a me dispiace un po' perchè il capitolo per PS vita comunque era fatto molto bene anche se non è sviluppato la naughty dog qua vedete c'è anche un'immagine e una fotografia che si sono scattati Nate, Ellen e Sally si il teschio è di quei mutanti del primo allora mi ricordavo bene si leggi l'ho trovata la mia vecchia fotocamera e ho pensato che sarebbe piaciuta verla e c'è Elena ok gira ah non riguarda quello il trofeo va bene vediamo qui allora ci mettiamo esplorare tutto in effetti ora che ci penso a trofei il gioco al momento è abbastanza scarso forse ne ho vinto uno forse non ne sono sicuro qui cosa c'è? Shambhala mi manchi amico Tenzin Uncharted 2 questo eh ragazzi qua Naughty Dog gioca con i nostri sentimenti e questo invece viene direttamente da Uncharted 3 qui si vi ricordate Drake metteva l'anello e decifrava le parole c'è la giacca di Tenzin vicino alla finestra adesso la andiamo a vedere che avventura incredibile Nate come va? io sono impegnata nei miei soliti traffici niente di grosso quello che basta per pagare le bollette non restare a corto di visca sono sempre disponibile libero per un viaggetto un abbraccio Chloe e mi sa che a Chloe non la vedremo mi sa proprio di no ormai ho cambiato il mio stile che so aspetta che roba è questo? cos'è? la barca San Bernard Uncharted 3 mi sa un resto della barca la pistola mi sa che è qua il trofeo arriva circondato centro peccato di questa e questa va bene non farti accerchiare Nate plastica in arrivo nuovo in pista ti sei perso un paio di cosette ah si? adesso le andiamo a recuperare mi sono perso un paio di cosette sì 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 arrivo così mi metto a sparare a destra e a sinistra qua le palline da tennis tra l'altro spara vabbè fine dei giochi diciamo mi sono perso un paio di cosette adesso ci guardiamo un altro po' in giro prima di chiudere cioè prima di chiudere prima di uscire da qui perché credo che di giocare almeno per un'altra ora e mezza ci siamo persi un paio di cosette ecco qua questa roba si è scatenato un vero massacro questa era la resina di Uncharted 2 qui qua c'è la roba che abbiamo raccolto prima vedete mi diceva la prima finestra in alto tra le travi mi diceva Stepet aspetta la finestra qual è? quella? la di prima qua si esce quindi no guardalo ah ho capito allora adesso andiamo a beccare sembra se mi fa prendere la pistola si ma guarda ma che cavolo di trofeo ah questa era giacca di Tenzi dammi qua dammi qua dammi qua da 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 metto a posto io dammi qua attimo solo ragazzi ok aspettate che è caduta una cosa scusatemi piccola interruzione dove sta? eccola ok rieccomi scusatemi si questa è la giacca di Tenzi ragazzi c'è tanto tanto citazione tanto citazionismo in questa solo in questa cantina va bene dai scendiamo vedete le palline ovunque ci sono e andiamo un po' da Elena visto che ci ha chiamato grazie a Sevet per il suggerimento ovviamente mi sa che tra poco arriviamo al quinto capitolo quindi mi sa che tra poco mi saluti però avremo modo di sentirci ovviamente in altre occasioni ora fai caso agli specchi ah stai lavorando su questo Bangkok guida turistica per visitare Bangkok ma fa coloro il sole del luogo va bene va bene wow ci serve proprio un'altra vacanza è troppo tempo chissà quanti anni sono passati dal Uncharted 3 non molti credo però c'erano almeno cinque anni tre quattro boh fai caso agli specchietti mi diceva Sevet c'è molto ordine in questa casa adesso sono le foto delle foto dell'album album di matrimonio c'è Sally che piange di là questa è bella che bella che bella questa foto chi c'è il bagno possiamo scendere possiamo scendere perché scendere scale sempre un po' piegato che si specchia chi c'è il capello sei rimasto lassù un'eternità stavo facendo delle ricerche ora si chiamano così è vero ti spiacerebbe prendere il cibo qui ho quasi finito oh certo subito grazie ecco qui Elena ok fatto hai finito sì sai no forse è lungo e pieno di errori di battitura ma esistono i revisori giusto oddio che fame sembra buono dunque com'è andata oggi? cosa? non si è capito niente scusa scusami com'è andata oggi? è andata bene classica giornata da sogno ho ripescato spazzatura dal fiume già ma almeno ti sei fatto una nuotata hai trovato rifiuti interessanti? no un vero cimelio era primo ventesimo secolo un camion autentico pare che i nativi lo chiamassero autocarro sì insomma le solite cose dimmi del tuo articolo allora era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog di come ti colpisca dritto ai pulmoni ma come mi ti piede giù dal mondo così ho fatto subito un versione di dire un bacalmente e riporto che c'è dove sei sono qui torturato da una forchetta davvero che c'è non fermarti era interessante bene di che parla l'articolo scusa quale questo cosa rispondiamo gli abitanti dello smog e siccome tutti non non riescono a volare via da lì e la gente soffoca va bene mi spiace ci sono andato vicino vicino è un parolone ma sì c'eri quasi jameson ti ha proposto ancora il lavoro in malesia jameson mi propone sempre il lavoro in malesia sentimi penso proprio che dovresti accettare l'arena è bellissima comunque l'hanno fatta davvero bene davvero bella permessi e si era stabilito che non avremmo più presto lavoro così non ne vale la pena non sembra così tanto rischioso se il problema sono solo i permessi puoi chiamare Sullivan da quant'è che non lo vedi due anni possiamo chiudere il discorso va bene ma non voglio che rinunci per colpa mia rinuncio perché non voglio farlo ok apprezzo il tuo gesto è solo allora vado di là a lavare questi piatti ferma faccio io ma dai hai lavato ieri tu hai cucinato io lavo tranquilla insomma almeno almeno lascia che me la guadagni in qualche modo potremmo giocarcela vorresti giocattela si si con il tuo giochino elettronico scommetto che posso battere il tuo record pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico ragazzi qua mi sa ho capito dove andiamo mi sa che già ho capito dove vogliamo arrivare eccolo io lo sapevo lo sapevo maledetti no di dog non si gioca con i sentimenti mannaccia mannaccia ci sta mettendo parecchio ci sta mettendo parecchio quando accende qualcosa ti aspetti che ok ci siamo no di dog non si gioca con i sentimenti qualcosa non va no no è che come fai come si inizia premi il tasto start lo sapevo ci sono il primo livello di crash che bello che era crash io tra l'altro ce l'ho anche su ps3 questo qua acquista è il ps classic è una volpe non molto realistica nooo nooo ragazzi non si gioca così cacciatemi cacciatemi sto crash bandicoot porca miseria abbiamo perso mi sa cosa morto così te la sei cercata non ci credo ce l'avevo quasi fatta puoi sempre ricominciare dai ti arrendi o riprovi ma la mia auto servirà per una bella cosa che fai ti metti a sfottere ora sì c'è una modalità c'è una modalità che si chiama facile tu l'attivi ed è molto più facile a parlare parla parla che vorresti fare guarda che ti avverto che vorresti fare attenta nella vita reale cosa sai fare dimmi stai attenta e se faccio così ecco qua questa è la sequenza che mostrano al playstation experience dello scorso anno non siamo ancora aperti siamo chiusi andiamo va bene va bene arrivo rompi palle eh chissà se lo caccio non lo so posso aiutarla? sì io sto cercando il mio fratellino intanto Sony continua a dire che i diritti sono di Activision poi ho più con molti meno capelli grigi va bene ciao buona giornata buona giornata e buona uncharted oh mio dio oh mio dio Sam ok ok tutto ok calma tranquillo ma come pensavo fosse li ho visti spararti sì l'hanno fatto proprio qui cazzo i dottori hanno beh dottori mi hanno ricogito e sbattuto di nuovo in cella sì ma io ho telefonato e controllato ovunque e ogni persona ogni documento confermava la tua morte Nathan abbiamo ucciso una guardia volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e ci è mancato poco cazzo Sam se l'avessi saputo io ti giuro che sarei tornato tornato a prendermi lo so Nathan lo so l'unica cosa che conta è che sono libero ehi sei ancora fra noi sì mi serve aria non vorrei svenirmi in braccio spero potrei non è una cosa da poco no? ma tu come sei uscito? quando sei uscito? come mi hai trovato? fino a qui? ok ok calmati ok siediti parlami di te dai di me? sì che c'è da dire? beh ho chiamato i vecchi contatti mi hanno raccontato delle storie pazzesche quali storie pazzesche? speratorie tu appeso un treno tagliato sull'Himalaya sì quello quello è successo andiamo cosa mi sono perso? cazzo Sam da dove inizia? eh da dove iniziamo? eh ragazzi qua io vado proprio a sentimento dorado che il mio uncharted preferito è il primo quindi vado su è il dorado ok eh ricordi la nostra teoria che Sir Francis Drake finse la sua morte? sì ma era vero ho trovato la bara all'arco di Panama sì sì ok stai a sentire faccio per aprirla sì e non c'è il corpo ma sul fondo c'è il suo vecchio diario mi prendi per il culo? e quindi è un'altra città leggendaria distrutta ma ne siamo usciti vivi a malapena incredibile già lo è stato peccato tu non ci fossi no è che è letteralmente incredibile mi mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote sì beh è un po' la storia della mia vita a dire il vero qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto ho comprato l'auto la casa l'anello di fidanzamento oggi ho l'anello sono sposato che scemo Elena quella delle avventure è mia moglie devi conoscerla stasera a cena a casa nostra vieni a mangiare così potrò dirle tutto di te Marta dovrò dirle tutto di te Nathan sono io non marri guai cosa? di che parli? che tipo di guai? il nome Hector Alcasarti dice niente sì è il boss della droga il macellaio di Panama giusto? perché? è una storia complicata ma era in cella con me l'ultimo anno per questo sono riuscito a uscire stanotte non leggi? Samuel viene qui ecco c'è le guardie cantano vabbè saranno ubriachi chissà però sono contenti come possono accontentarsi di queste vite meschine le loro squalido lavoro almeno hanno una moglie che li aspetta noi che abbiamo senza offese teniamo l'ambizione e quando saremo fuori l'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno eh già apprezzo il tuo ottimismo che farei quando sarei fuori Samuel? se mai riuscissi a uscire sai già quello che farei claro però voglio sentirtelo dire troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi di cui ormai sarei stufa di sentir parlare oh no la storia di un revered se 400 milioni in oro e gioielli è la mia nuova ninanana preferita tu pensi davvero di trovarlo? se fossi libero? assolutamente l'ambizione cosa che diceva Avery? sono un uomo di ventura devo seguire il mio destino mi gusta il suo spirito ci fa controllare pure Sam? non ti pare sì e ora butto ma chissà ma chissà iniziate a progettare tutto Samuel datti una mossa dobbiamo fare in fretta porca miseria chissà chissà secondo me sì io la butto lì non escludo un DLC single player di Uncharted interamente dedicato a Sam tieni ti servirà o ti ricordi come si usa mi tornerà in mente abbrontu da stas puertas Hector se lo fai scolpirai una cazzo di rivolta esatto esatto pagalo dai viceversa a cosa buona è che il gioco segnala dove sono le munizioni sì aia sto per morire ok abbiamo anche l'arma secondaria vedete che bella l'animazione quando lui passa dall'arma primaria a secondaria aia aia un tasto per cambiare spalla ancora non l'ho individuato non so se sai che non me la posso fare ah ecco premi x mentre miri per cambiare spalla ok ragazzi il gunplay mi piace abbastanza solito lo vedo mi da buone sensazioni fatta la mano ecco forse la cosa che mi serve piaciuto un po' di più è un po' più di rinculo ecco ecco ma che bello là le armi che si incrociavano no ecco 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 l'ambientazione si distruggono vedete come si è sgredolato il riparo lì porca miseria graficamente che cos'è guardate che bello non c'è guarda Ah, ecco Qui ne abbiamo scoperto come ha fatto Sam a scappare alla prigione. Dormirei in un vero letto, magari troverai una bella donna che mi scaldi. Cercherò il mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Every? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti e riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dove? Sì, certo. Ok. Senti, non è che Every abbia lasciato una mappa con sopra una grossa teoria? No, aspetta. Aspetta un attimo. Ehi, servo! Tu mi gusti, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sei a chi. Posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cucino. Vedi, il problema è che... Si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeça. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? Sei mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. Tre mesi. Tre mesi è impossibile. Tre mesi. Metà del tesoro. Puoi farcelo? Dillo. Tre mesi. Metà del tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro. O se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina e a dieci chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta ho trovato. Che faccio? Tranquilo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Quindi, Alcasar mi ha tirato fuori. Ed eccoci qui. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di San Nisma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni. Non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... Beh, scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di San Nisma. Lo dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh, merda. Questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama? Molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra tre giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Eh, ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, serve necessariamente un invito per quello... E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a riuscire? No. Noi due. Oh no. No, Sam, giuro, no, non posso. Ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... Beh, chiunque, Charlie Catter... Ecco, Charlie Catter l'ha nominato. Assolutamente no. Non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di... Ha citato Charlie. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcassar. Eh, boffino di fumare e fuma già un'altra. Complimenti. Ciao, tesoro. Sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Con il telefono del 15-18 ormai? Uno smartphone, no, eh? Vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Oh, chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Non centriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Sam... Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà. O se viene beccato. Sam, conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Uh-huh. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan. Parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte. Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, 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 ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. No, 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 no. Prima o poi. Ammetterei che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo. Grande Sally. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Grazie Va bene ragazzi Allora Sono le 6 e qualcosa Io direi di chiuderla qui Ritorniamo con Uncharted 4 questa sera alle 9 Riprendiamo esattamente da questo momento Vedete che bello sto panorama Io quindi vi lascio con questo bellissimo panorama E vi do appuntamento a questa sera Riprendiamo proprio da qui Quindi vi ricordo Sarò una settimana interamente dedicata al gioco Farò una serie di live Praticamente giocherò tutto il gioco insieme a voi Come ho fatto con il Road to Uncharted L'unica differenza è che i vari episodi Saranno concentrati tutti in pochi giorni Quindi non ci saranno episodi a cadenza settimanale Ogni 15 giorni Come ho fatto con il Road to Uncharted Nulla Grazie per avermi seguito Noi ci vediamo questa sera alle ore 21 Con Uncharted 4 Riprendiamo proprio dal sesto capitolo E niente Continuate a seguirci sul Tribe Adesso vado a vedere se ci sono un po' di news E niente A più tardi A stasera Ciao 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 Grazie.